Innanzitutto volevo ringraziarvi per il quantitativo di commenti che sto ricevendo nei vari social Facebook, Whatsapp con molti messaggi privati sia per sostenitori anche chi mi sta dando consigli tecnici e di questo vi ringrazio assolutamente la cosa è partita molto del tipo ok sono anni che spiego e insegno giochi da tavolo cosa faccio? Provo a fare dei video, vedo che comunque sono piuttosto diffusi, li fanno in molti ci provo pure io, tanto cosa ho da perdere? Alla fine è sempre condividere una passione altra cosa, volevo scusarmi per la qualità dell'audio specialmente all'inizio del precedente video purtroppo ho sbagliato alcune cose io nel montaggio e diciamo che si sentivano parecchie interferenze però se notate già in questo video si sente molto meglio, non dovrebbe esserci quel disturbo e inoltre il volume dovrebbe sentirsi meglio altra cosa, vi do una piccola anticipazione del prossimo gioco che andrò a spiegare con l'episodio 2 facciamo così, è inutile che ve lo dico adesso, vedetevi la prossima parte e vediamo se ci arrivate ok? Mi raccomando questo è un piccolo indizio del prossimo gioco che andrò a spiegare indovinate qual è? è inutile che andrò a spiegare